... ... Nassar è diventato grande Ha bisogno di avere un padre vicino Non ha un modello da seguire Io non voglio che quando Nassar sarà grande non ti parli e i soldi non ti renderanno un padre migliore. Nazar! Parlerò con Nazar. Se è stato lui, pagherò tutto io. È opera tua. Ho bisogno di soldi per rifare i miei documenti. Olena lo sa. Nessuno deve saperlo. È solo per una volta. Io non voglio che tu diventi un criminale, capito? Ho infranto la mia promessa, perdonami. Dov'era Dio quando avevamo bisogno di lui? Papà, che vuol dire panfira?